Perché sei che sono tutto la base, la base, non c'è problema, sono tutto la base, la base, non c'è problema Sono tutto la base, la base, non c'è problema, sono tutto la base, la base, la base Sono un protettore e di didaminta, sono della giaccia e dell'ega Figurata che lea la neva religione cristiana ai vei riti e alla divinità dei pagani Bruna Maria Dallago, con si libera, nomina rustica, portadante e stadita la sala del Comune de Vic la nomina del mondo entre il passato e il presente, entre il sento e il profano. Una opera che conta della storia e della mudazione intravenuta e della tradizione popolare di senso del calendario. Allora, in questo libro io racconto, cerco almeno di raccontare, quello che per me è il discorso del sacro e del santo. Cioè questo impatto con queste creature, accompagnatori della nostra vita, che io ho sentito da sempre, sia da piccola, veramente come compagni ideali. E li ho illustrati come potevo, da una parte dal punto di vista geografico, cioè della loro storia, e dall'altra parte con le usanze che nella tradizione alpina si riferiscono calendarialmente a questi santi. Nella pubblicazione portata da Dante in stadio, troverga in c'è i mici sensi di fascia di schia Sant'Ugena, le da i mici della Mare Terra e dell'Ega, ma in c'è San Gianno e San Michel, figuras le das al Tempo, sensi che spartia il passaggio di questa stagione. La testimonianza più buona della trasformazione di queste figuras religiose fatte dal popolo, che in c'è bene che il C.S. convertì al cristianesimo e resti le erice a vell'ora e alla sapienza tra maneda tra i mici. Soprattutto in Val di Fassa, ma non soltanto, perché sono così legati a quello che è anche il muoversi delle stagioni, ricordi di periodi lontani, di divinità diverse che c'erano qui, di antiche credenze, che sono estremamente vitali e quando uno se li sente raccontare dice, ah mi ricordo che, mi ricordo che, mi ricordo che.